ok praticamente siamo tornati indietro per prendere le armi perché sennò si fa la fine nell'ultimo video esatto soprattutto le munizioni per i cuscili da cecchino e se tu riuscissi anche qualche bomba capito perché siamo un po sprovvisti di granate a frammentazione capito secondo me possono essere utili soprattutto per far scoppiati presenti quei vari linfocati ma c'è anche il sconto faccio vedere cosa è il conto a vedere le munizioni che ci servono sono quelle ricche c'era 480 se non mi sbaglio 50 calibro 50 no 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 non sono quelle sono quelle che c'era 52 forse allora perché mi ricordo che era un proiettile singolo sono le 30 30 06 forse sono quelle lì forse sono quelle giù quelle lì vedi colpo singolo giù a sinistra quello 30 06 sì sono quelle sono quelle prendile cazzo prendile più che puoi devono anche tutte ma fanco ma pia le tutte le sono anche in sconto ok poi di armi cosa c'era scusa mia cazzo se tu riuscissi guarda quel cazzo di fucile di precisione visto che mostro quale quello lì che tu c'eri prima sopra è il primo fucile che trovi lì guarda dopo le munizioni aspetta aspetta prima che me lo scordi mi servono anche le cellule d'energia come munizioni però non c'è nessuno qui come bisogna fare con le vicine energetiche anche io è 815 costano un sacco capito lo so ma prende nemmeno prende le 5 500 ce le fa buttare vaffanculo se no non hai mai munizioni il fucile lì quanto cazzo una mitra elettrice buona non ce l'hanno la poi compra per magari per per c'è il virus che c'ha due armi non si possono vedere di buono c'è il virus c'ha veramente due armi di merda vero si fucile a questa 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 presenta è una buona arma per esempio piccolo calcolo possiamo dare a tante persone piccolo calcolo necessiterebbe un'arma di calibro normale tipo una mitra elettrice un fucile un m4 una sera ma vedi col precisione lì l'hai visto che il fucile a precisione lì è una bomba quel fucile di precisione lì è una bomba veramente 69 e 94 questa è una bomba questo lì io lo comprirei per darla a eagle sinceramente ma ce l'ha già capito alla fine è più forte quattrocento costa capito e lo so però ma allora piuttosto andrei su un'arma automatica da dare a cerberus perché davvero è in guarda quello che ha è in guarda anche questa è tanta roba che bomba è la lì che bomba è la lì un'arma che ci possa fare la differenza capito cioè pensa un attimo io ci risponderei questa non è un'arma contundente sì ma il ghiuzzone è già a posto secondo me guarda chi ha messo peggio di tutti a me serve questo qui perché armi piccolo calibro la tizia la tizia per esempio c'è una pistolina del cazzo è messa peggio di tutti un revolver di 35-43 no insomma in realtà no perché comprai quel revolver lì quello accanto quello lì quello di mezzo cioè non quello 47-57 è un po' meglio sì è un po' meno meglio costa 279 ci può anche stare questo sarebbe tanta roba 7,40 però costa troppo dai il compresso di che è un pochino quello lì secondo me è una giusta via di mezzo quello lì capito per ora sì 41-51 anche questo lo comprirei per quell'altra tizia guarda un attimo ti conviene comprare quello o un'arma automatica infatti come l'arma automatica non è che ci abbia più di tanto lui però c'è l'energia va che non sono troppe risorse drago rosso bestia guarda che bestia piglialo cazzo quello è da prende porca troia quello è da zero capito ma che cazzo di arma che munizioni ha 30-06 che ha appena preso guarda 101-139 è quello che abbiamo noi ma poi scusami è molto inferiore cazzo eh sì è molto inferiore cazzo quello che comprirei davvero piuttosto venderei quello che abbiamo noi però quello cazzo era bomba sai se lo dai a Eagle poi portata hai visto quanta portata c'ha 24 eh c'ha di portata sì non è male effettivamente io ce li butterei non mi frega niente se rimane senza soli tanto abbiamo tutto abbiamo munizioni abbiamo medikit non si compra le bombe ma che cazzo se ne frega sinceramente guarda che diventa qualcosa che avanza questa manuccia vi chiede che non ce l'abbiamo 61 magari che potevano servire più andate non si compra una granata fermentazione è quello questo è troppo questo è troppo la torretta con mitralli ha capito 72 quella troppo disse anche per me insieme a insieme anche al fucile tra l'altro qual è il fucile che volevamo prendere no non è quello questo è un attimo si costa un po' meno 66 69 94 sì ma quell'altro è nettamente nettamente guarda che è una via di mezzo questa dai 69 94 dove era quello che si era visto va bene va bene quell'altro che si era visto è più giù ecco lo è quello vai Ale guarda che bomba è quello lì 106 147 cioè con quello lì butti giù un nemico non è male tra l'altro c'è anche un'abilità lo vedi c'è un'abilità colpo rischioso è proprio il fucile o la valla spacca un attacco inaffidabile che ha 70% di probabilità di critico ma anche meno 40% di probabilità di successo danni 100% dei danni dell'arma non è male anche questo però non fa così schifo che ci permette di comprare le torrette anche per rendere più utile lei capito le torrette vai 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 organizzati come ti pare a te anche questo non è male non dubbio dai dai bisogna capire come funziona le meccaniche del gioco il problema e li compro questo ci ritorna così le posso prendere queste compro anche le bombe a frammentazione allora a questo punto ipotermizzatore congelamento di rallentamento con la gelazione granata al plasma torretta con laser non la posso anche prendere no richiede c'è di meccanica l'inizio non ce l'ha e poi un tot e poi le granate a finire la zella mi ha preso poche munizioni in realtà sai no è vero ora sistemo le armi vai dalla chi ha bisogno allora lui innanzitutto questa andava bene anche l'usì vedi 15-17 però fu uscito di assalto è una merda cosa abbiamo comprato? fusi di precisione e aria e pistolina lui lo lasci sta con quelli armi come seconda arma è il fucile d'assalto con le cellule di energia che gli ho comprato vai sì comunque non è messo benissimo anche lui di armi guarda le molotov e il med la tizia bisogna dargli dagli il revolver che hai comprato quello lì ok poi gli do adesso vi debba con un altro slot qui eh sotto ci allenergiate che un po' ce ne abbiamo ma anche le munizioni per il cecchino sono almeno 52 52 sono tante per il cecchino sparo un colpa alla volta morte fredda ce l'ha uno è un cecchino lei ce l'ha uno di fucile d'assalto c'ha uno sì però ce l'ha fucile d'assalto abbiamo già due cecchini io lo lascio restare così lei c'era già fucile d'assalto e 46 allora dagli lì morte fredda che è un pochino meglio ok do questo lì morte fredda il ghiazzone il ghiazzone è già sistemato ah sono presi i missili cazzo va bene dai tanto c'è il lancio a fiamme faremo con quello il ghiazzone è a posto per ora ah le bombe giusto ecco lui dagli il fucile per bene per favore 69 94 quello è meglio comunque del ghiazzone non so si è preso apposta è di livello 10 e poi c'è la possibilità di il modding delle armi voglio capire capito questo gli possiamo dare un'armatura migliore non c'è abbastanza forza anche lui ha bisogno un attimo guarda là c'è fucile di merda non c'è no mi servirebbe qualcosa di meglio sinceramente quella quella dagli ragazzo arm di grosso calibro vabbè comunque il suo lo fa anche con questo lui ce l'ha un minimo di forza per forse per fare già qualcosa più 4 più 5 ce l'ha già meglio più 3 ok 5 di forza mi si aumenta un po' di forza allora lui fa schifo davvero lui qualcosa gli serve un fucile ah il suo può prendere il fucile che c'era quell'altro esatto che è quello lì bravo e poi il fucile a pompa va bene si bravo poi si va bene dai come seconda arma va bene il cicchino poi c'è una bomba direi che sono ottimali per poter affrontare la missione stavolta ritorno da dove sei venuto vai c'hanno tutte le munizioni fa le ricarica tutti se no poi arrivi lì fai il turno per ricarica poche munizioni del revolver hai visto queste munizioni è insaziabile capite perché non vanno assolutamente sprecate le munizioni in nessun caso quello è il discorso capito è finito se le sprechi capito tutta una dove sono venuto esatto ora direi che forse salva quando ci sei messo in posizione salva mi raccomando si potremmo evitare lo scontro comunque potresti evitare lo scontro dici tecnicamente si rifacendo tutto il giro dici rifacendo tutto il giro si però dai vabbè si affronta si è visto l'altra volta che ci scuola fa ma noi non siamo ma ma sono entrato nei collicoli ah si è vero è vero si si è giusto no 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 ho sbagliato invece voglio entrare dove prima ah non era lì di che prima si si era qui forse si vediamo si 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 era lì era lì anche questi maiali vorrei prenderne uno che combatta con noi per l'età anche Stein qui eravamo già a posto avevamo già affrontato quei vermicid se ci si fa comunque è una bella battaglia che si va a vincere si anche perché i pagliazzo se non hanno rotto il cazzo se capirò eh sono sempre giù anche nel circo come e poi noi non abbiamo stemperato tutti i soldi te lo volevi ah ti rischia lo so il blocco totale però ci siamo diciamo si un po' indirati però ritrova un po' andare al computer la giù scusa giusto per capire quale computer prima di iniziare la battaglia vero laggiù che diceva la frase lo so che non era giusto nessuna frase ma magari ora realmente creda riprovandoci che cazzo ne so sono strano che sia lì senza nessun motivo no c'è il motivo ma dico devi conoscere la frase niente no aspetta ma scusa ma ok quindi dici che se non cioè ti sblocca la frase dopo quando la senti sì c'è 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 un modo opzioni c'è un modo per vedere per ascoltarla sicuramente che non abbiamo allora come eravamo disposti che era una buona una buona disposizione come eravamo messi prima allora 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 mi ricordo che ha iniziato tirando un missile col ghiozoni sono sicuro e ha beccato due maiali e l'ha incendiato quelli laggiù in fondo te lo ricordi sì quindi il ghiozoni l'hai messo lì dietro i sacchetti di dietro i sacchetti di merda lì capito quei sacchetti lì dove ti sgamano se non stai attento poi l'avevi messo uno l'avevi messo in fondo a destra ricordo insieme a ciò avevi messo c'è il virus lì però non vorrei sbagliarmi e i cecchini bravo mattini lì top cecchini lì forse in troppo lontane forse in troppo lontane non lo so forse in troppo lontane ma ci trovano lui mattino centralmente cioè lei bravo lì e lui lì è bravo lui l'avevi messo lì c'è ritratto un missilozzo che gli aveva fatto male al missilozzo si gli aveva fatto male cane aveva beccato i due maiali contemporaneamente capito salva quando metti si piatta di musica salva quando sei in posizione salva bravo dovevo sparare la vola più in là lì dove convergono i due maiali ora si spostano vedi si spostano e c'è un momento in cui li li becchia entrambi più in là più verso il maiale più lontano anche me non è male anche lì vai 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 è una bella botta questa è una bella botta si 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 però è troppo basso il volume io lo sento in tranquillità non esagerà perché cioè le nostre voce sono troppo alte forse è il paiaso maledetto bastardo dio buono lo mando a fanculo dobbiamo andare a fanculo posso anche sparare dopo ma si tutti e due dobbiamo andare a fanculo vai puoi sparare anche alla bombola comunque vero 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 vabbè prossimo tour ricarica no sono piena ok lo metto in preparazione beh tocca una stecola ah poi ci arriva ecco cecchino si no non ci arriva PA insufficiente c'è c'è il revolver prossimo turno però ci arriva è il paiaso vai 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 questo buttagli una mina buttagli una mina di buono più insufficiente vabbè metterlo lì in copertura il cazzo ora coi cecchini ci si diverte mamon io troppo effettivamente vabbè allora avvicinati un po' non so comunque qua lì sarebbe buono che è buona disposizione sbagliata no va bene va bene il problema sono i maiali capito ci puoi sparare bella roba questo è stato un colpo amico eh vai secca un paiaso secca si verrà avvicinare si ora accendono i maiali però quello è lontano credo proprio che da lì non ce la faccio arrivati e l'altro non lo può accende ah no ma ci si guarda l'acceso ora un sacco di velocità il problema è che ora i maiali ti vai ganando osso dio bonini eh mi buttano giù lui il tag vabbè dai uno ci può stare di perderlo lì per lì zitto no zitto grande grande eh là eh là uno qui è sopravvissuto è sopravvissuto fallo pure era un maiale quello lì eh mi sape si devo andare via però lui è lì eh mettilo no no mettilo qui lì a quanto a coso a quello di livello 10 sarebbe da ti si provoca lì ti lascia la bomba ti lascia la botta però poi è esposto dopo vabbè ah non può più muoversi dopo devo rischiare tutto dai non può anche sparare appunto a ammazzarli non ce l'ha attacco a grappolo no eh no quello non lo fa ugore appunto a di modo a qualcosa le va a vita la gente dai mazzalo non l'ha preso porca troia va tranquillo va tranquillo eh deve intervenire lei la devo esporre un po' no no fermo è andata forse non era la posta giusta si farà la bombola la bombola lì dici eh si io li sparerei si è congelato il tizio lì capito che rompe il cazzo col fuoco vai beccati che sta sprangato figlio di puttana 56% è un po' imbarcato ora lui c'è il pinazzo allora lui fa danni ora lui fa il brodo di giugiole dai io no cazzo c'è da prendere a dimestichezza ci sta vero vero nuova arma dai hai perdonato per ora lì lì bravi si ho capito c'è un altro c'è un altro di quelli ah è lontano forse vabbè comunque lascia lascia se lo stacco il colpo lì lascia lo stacco non posso sa che spadisce dai prova a seccare lui bella roba non l'ha ammazzato però va bene dai accontentiamoci faccio a questo punto no non mi voglio esporre no non lo fai esporre spara a quel tizio con la bombola in guarda non ci arriva non ci arriva non ci arriva eh no 204 è levato eh quello era sempre in vita uno è morto uno è morto va bene dai ci scagge un po' di danni ha fatto doppio doppia kill qui ci fanno parecchi danni meno male sciupe no ha fatto dai sono briare insomma sciu sono briare lì hanno fatto la briata e va bene non sparare a quelli nel fumo 63% è comunque buono provi però voglio sparare non voglio sciupare colpi di vestiti bella roba è il mamon che voglia col mamon c'è il beres c'è anche fucili di merda addosso figurate se c'è un bel fucili ciccato ciccato vabbè vabbè ma sei stronza però eh il mamon ammazza il tizio lì piuttosto bella roba questa è stata una bella giuata vedi sta arrivando dal cazzo 1 lui ora deve colpire ha rotto il cazzo deve colpire lui è il fago di paiaso è lì bella roba fa danni sì eh fa dei pedagli lui si dovrebbe un attimino levar da coglioni io io ammazzerai quello lì col fuo cioè dare una volta quello lì col fuo 5% è in occultamento no ma ah sì quello là giù vicino al ghiozone posso sparare lui lui si deve esporre dai deve sparare forse ce la fa ammazzare questo qui dietro seccalo vabbè dai comunque ha fatto danno eh ammazza lui ce la fa no 3 punti azione ah ok fronte riesce a andare a guardia ma ti metto lì tu ma ti metto lì tu no ma muore ma ti mette lì tu la vo stronz ha beccato il suo mi è stato un gran mi è stato un grande ma lì eh questo si fa troppo il cazzo Gio di pelle è morta Va bene, dai, ci sta Sì, ci sta Ora non posso Devi fare un'azione Devi fare un'azione decisiva qui, eh Ah, spara alla bombola del gas Anche se rischi di ammazzare quel tizio dietro lì Non so se ne verrà la pena Aspetta un altro Eh, ma la mazzuta e due, se scoppia la mazzuta e due Aspetta un attimo Fallo scappà, fallo scappà Fallo scappà e sparci Mi faccio anche scappà Fallo scappà, vai Ah, metterlo lì, bravo, perfetto Ora colpa alla bombola fiscale, lì e via C'è anche lui, eh Lui butta giù questo Sì 37% Va bene Eh, vabbè, ci sta, era occultato Sì, spara lui, spara lui Eh, lo so che basta, probabilità, ma Lo spostalo di lì, eh, sì, lo spostalo di lì Perché? Mettilo lì, eh, bravo, metterlo di via, perché sennò è alla mece del fuo Vero Mettilo lì, va bene Dovrebbe morire Comunque Sì, ho buttato io, ho fatto un buon lavoro Eh, ora spara la bombola del gas Provaci Alla grande, mamma mia Ehm, perfetto Perfetto Hai fatto, ho visto che attrezzati Sì Se hai detto no, botta di più Comunque c'è una cassetta Dell'infirmeria da rubricchiare lì dietro Nell'angolo Nuove info Nuove info aggiunte, vedi? Sì, guarda quante roba c'è da dare vista Qua c'è da aprire tutti i magazzini Ora hai campo libero, finalmente Sì 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 Bene Bene Buono Bene 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 Schifo, 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 schifo Eh, questo è un maltrice Va Puglietà di successo, 6% è ottimo Sì, da subito al cecchino Va, apri tutti i cazzo di magazzini, finalmente, Dio buono Via libera, eh Campo per Ora via libera, Dio buono E il paiazza Salva, poi, tutti altri Bravo Cazzo Guarda un po' Scassinamento, no? Lì ci vuole 7 Ma te C'hai uno che c'ha 5, mi pare Guardi un attimo Se gli puoi da Qualche punto Perché ora Chi è che c'è tanto di scassinamento? Ah, 4 Siamo lontani Sì, torneremo semmai Ah, più l'altra porcia Sì, quello Quello sia una mente Eh, prova ha perso Vai a sapere di tornare Buono Affare di armi Quanto consigliato? 31,46 Si può dare bisogno Gibello 13 Connettore plus Balla roba Arma contundente Sfonda posto Un po' di demolizione Angolo del cono Modding armi Poi puoi aprire anche L'altro magazzino Quello Il 105 Che è lì a sinistra Il 107 Non abbiamo trovato la chiave No, il 107 No, ma il 105 C'abbiamo la chiave Quello lì Mi sa che qui è proprio Il continuo Della missione Sì Munizioni Benlo Ah, ci ho anche visto Cosa c'era La scelta di energia Ah I livelli dai ora O aspetti? Aspetto un attimo Ah, non c'è un cazzo Finito Quindi bisogna andare Dall'altra parte In po' parole Beh, quale altra parte? Eh, lì Sto andando da lì Ti ricordi che c'erano C'erano altre parti Non lì, non lì Di qua ci siamo stati, sì No, qua Siamo venuti da qua Siamo da qui Noio Eh, infatti È lì dove dicevo io Devi rientrare Dalla porta Lì dove c'è il pc A destra Vedi Lì Bravo Non lì Non ho sbagliato, sì Nemmeno lì Eh, già Sì Ah, nuove informazioni sbloccate Mi sa che forse lo sappiamo la password Ah, prova un po' Se bastava far così Si poteva evitare lo scontro tranquillamente Eh Vabbè Cioè, per cosa fa? Perché bastava far cosa? Andar su cadavere, mi sa Infatti sì Fila strocca, vedi? Eh Eh, ma ce n'è altre Voi pendejo Volete scogliarci con una capretta? Siamo alla battuta finale Di ogni barzelletta Vai Quella lì Ma il paese migliore Dio Ma il paese migliore No, non ce l'abbiamo questa partita Ehm, preso no E vi farà tanto dolore? No, non lo sappiamo In cima Che figliacci maledetti Sfigati Ma dove l'abbiamo trovato? In i cadaveri? Sì Mi pare di sì E allora guarda se c'è un'altra pila di cadaveri Non so Guarda che parte Comunque Guarda Abbiamo fatto una bella azione qui Eh Sì Vero Sì Ma va bene Hai visto che Cazzo Come fai senza munizioni? Voglio dire Senza cecchini Diciamo che abbiamo Diminuito la nostra potenza di fuoco Della metà Eh sì Cioè Ti rendi molto De Io qui non so dove trovare la password Però Sicuramente è una scorsa nei cunicoli Qui non se l'ha visto tutto E quella a fare lì non sarà Una bomba O sempre comodo Ma vabbè qui ci sono stati O forse Si è trovato un po' Dei nemici Che non si sono approcciati Eh non è lì 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 Passa da dentro il locale Fidati Passa da dentro il locale Da quella porta lì Entra Lì eravamo già Forse L'abbiamo già affrontati Vai vai Supera la stanza Vai vai Sinistra Monetà d'argento Ce la butto Ce l'ho Ce l'avevo un'altra Cosa 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 Ramen Cercate Spaghetti Stantane Per il ramen Ammasato No Abbiamo sbloccato Album Bizarre Il cuoco Viene da noi Così Ottimo Vabbè comunque Vai Prosegui Sinistra Prosegui Prosegui Ecco la zona Che non avevamo fatto È lì Subito lì Quindi dai i livelli È subito lì a destra E qui sì Doi livelli Ci sono anche dei porci Te lo dico A parte attributi 1 3 Non voglio aspettare Da livelli Questo è il classico A eagle Dagli Ficili Di precisione Di mono Sì Falo arriva a livello 10 Ormai A livello massimo Serve C'è l'ha No 5 Però Forse Sopravvivenza 1 Fa comodo Per i quick time event Forse Sì però non voglio Generalizzarlo troppo Capito C'è già uno Sì in effetti Sì dai Allora Lascia stare Aspettare Che arriva a 5 punti Attributi Però gli posso Dattere Attributi Di dare Intelligenza Intelligenza Che c'ha un Fusso di precisione Siamo Intelligenza Ma guarda Che bonus Gli dà Di intelligenza Guarda Vai a vedere C'è scritto Più 6 Puntabilità Vai Vada Sì Non abbiamo Cura Lì magari Ci sono i maiali Vedi il problema È un'altra area Come quella di prima All'incirca Forse è un pochino Più facile In realtà Ci sono pochi Ci sono pochi nemici L'altro Dove essere sincero Ma Va giocata Questa va giocata bene Perché non hai Nascondigli Capito Non abbiamo Abbastanza livelli Mi sa A questo punto Lui Visto che Non hanno più proietti Gli do Il lancio a fiamme Anche se Per loro Comunque Sono resistenti A rifiamme Loro Qui è un casino A disposizione Ti devi scoprire subito Ti devi sparare subito A quel bastardo Lì Cercando di C'hanno i maiali Vabbè Nel fatto Li permette anche Tutti in copertura Nel solito posto Eh Oppa Ti vede Oppa Come hanno sparato Non so se la racconta Deve andare subito Troppo a colpo Lui Si espone troppo Dai Sì Forse sì Vado su lui Subito Sì Cazzo Cazzo Va bene Va bene Va bene Va bene Insomma Ma che Ha scriticato Quello sul paiazzo Sul paiazzo Guarda Se ce la fa Anche potrebbe arrivare Anche qua Potrebbe arrivare anche qua Però no Perché Se ce la fa Fa un bel colpo Sì Sono tantissime maiali Non so se hai visto Sì Ma si devono avvicinare Comunque Non ce l'ha affatto Ah comunque L'ha beccato Ma non l'ha fatto scoppiare Vede ci tirare Vabbè niente La scelta Sì Comunque ha fatto La grada pomogena ci tira Viene che copre tutti Guarda Bravo 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 Vai Sì Quella è utile comunque Però Ti fa essere anche più No no Eh Quel revolver lì Inizia a essere decente Vedi Puce di prigione Sì Ora accendono maiali Eh Vedete È un casino Che arrivano Mi sa Non lo so Forse sì Sì Probabilmente Se ci arrivano Hai salvato No Cazzo Ho salvato Sì Ho salvato Ok Ci sono messi vicini anche loro però Capito i maiali Ma forse non c'è Ti vanno Eh la è la è rimasto Guarda che coglione Boom 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 È un casino Questa è quasi impossibile Sinceramente Forse donna lì la parola Non ho capito come è possibile affrontarli È troppo stretto lo spazio Capito Come cazzo fai ad affrontarli bene Sono Cioè Teoricamente lo sai come fai Secondo me Ah però non si è mai pensato una cosa Che i maiali Ci hanno gli esplosivi addosso Quindi puoi sparare Col colpo preciso Anche Direttamente ai maiali Quello sì Comunque non è facile Voglio capire Come siamo arrivati Ave Informazioni Sulla porta No Non l'avevi Avvi dato di livelli Ma non ci sono più ora Vabbè L'avevo dato un punto Il tizio No vabbè Qual è la missione ora? Eh Ospiti poco graditi Vicino a un vecchio parcheggio Vabbè siamo giàati nel vecchio parcheggio Sì 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 Si sta Facendo entrare Nascosto Sicurato in città Comunque Al solito Anche secondo me È fattibile Eh Quella lì La potessi mettere Nella macchinetta Magari ti dà la frase No Possibile Tire la frase Cioè voglio capire Cioè voglio capire Nuove informazioni aggiunte Ma Riprovo? Sì No Sono in tutti i mezzi sfatti No Non sono in tutti i mezzi sfatti I maiali I peoni Ma non so in realtà se qui c'è barilla esplosiva a parte Buono Anche Eh lì fareste un bel casino Capito? Da che poi Sì Ci sta che poi comunque non sia qui Ah sì Infatti Poterci di no Però Poterci anche di sì Perchè Perchè Perchè